eccoci di nuovo qui su benvenuti sub in sapiens sono io gianandrea giacoma e con gianluca bocchi e continuiamo nel nostro dialogo in questo quarto incontro in cui abbiamo iniziato a interrogarci su un'interpretazione della cultura occidentale come in qualche modo bloccata in una eterna tarda modernità in questi primi tre incontri abbiamo visto da partire dal cinquecento al seicento ci siamo avvicinati fino al secolo scorso ci sono ancora tante cose da dire ma io vorrei partire un po visto che ci stiamo avvicinando ai nostri tempi con questo ricostruzione interpretazione vorrei partire con una domanda gianluca alla luce anche di quello che è emerso in questi primi tre video c'è questo filo rosso no questa difficoltà che sembra molto presente nella nostra specie di ovviamente in quanto essere viventi prima ancora che come esseri umani dobbiamo fronteggiare l'entropia l'incertezza il limite delle nostre capacità questo fa parte del nostro essere viventi prima ancora che umani da quello che è emerso sembra esserci questa difficoltà cognitiva emotiva che poi si concretizza in cultura nel trovare un equilibrio tra la necessità ovviamente di punti di riferimento per orientarsi e poi scegliere agire avere delle visioni nel mondo e la sensibilità la saggezza di mantenere comunque aperta l'incertezza il dialogo con il limite e stare attenti a la tentazione di avere certezze forti teorie forti che possono essere di natura scientifica politica religiosa eccetera ecco rispetto a questa tendenza no che sembra essere trasversale anche nel passaggio dalla visione religiosa che in qualche modo è stata inglobata in un certo modo interpretare la scienza nella modernità tu che che ipotesi a e quali altri anche quali esperti di riferimento sono per te importanti per cercare di capire questa nostra tendenza umana no allora detto che a grandi linee quello che si chiama il pensiero della complessità cioè il movimento che negli ultimi decenni si è sviluppato a partire dalle scienze dei sistemi complessi tende proprio a trovare questo equilibrio noi qui potremmo fare tantissimi discorsi però io trovo che la cosa più interessante di questa età storica no è che noi in qualche modo abbiamo scoperto anche se le cose ovviamente sono in pieno di venire che in un certo senso il nostro know how cerebrale va nella direzione che hai detto te pone un equilibrio fra queste due tendenze e che quando il nostro know how cerebrale si squilibra sono guai che cosa voglio dire qui bisognerebbe aprire un discorso sul fatto che le neuroscienze oggi certi aspetti delle neuroscienze certi autori invece di essere riduzionisti sono liberatori perché ci dicono guardate che noi nel nostro cervello e nel nostro corpo no perché poi il corpo e il cervello non sono divisi ma anche questo è un altro discorso abbiamo degli elementi forti per vivere all'altezza della complessità del mondo e dobbiamo scoprire queste cose no allora io stesso faccio riferimento a quest'opera eh che forse abbastanza sottovalutata no ma che è molto importante di questo autore eh britannico eh britannico no che ha fatto eh vari testi di cui uno è già tradotto in italiano e si chiama il padrone il suo emissario tradotto dalla UTET e poi ha rilanciato i giochi con eh un un testo molto ampio no che si chiama The Matter With Things che non è ancora tradotto in italiano no ed è un testo molto molto complesso di cui daremo solo alcune indicazioni allora qual è tra l'altro interessante l'esperienza di McGilchrist perché lui parte probabilmente parte come umanista no anzi le sue notizie biografiche cioè lui è molto esperto di letteratura inglese e anche di filosofia poi su questa base questi interessi ha fatto una carriera anche di di neuroscienziato e poi è diventato psichiatra no quindi è una figura no di confine tra l'umanesimo diciamo così e le scienze arte eccetera eccetera allora quello che sostiene lui a grandi linee è che noi abbiamo questi due emisferi cerebrali semplificando molto ma poi torneremo su questa cosa tra le varie caratteristiche che hanno quei due emisferi cerebrali ci sono appunto il fatto che un emisfero in genere il sinistro è più orientato al senso delle possibilità ok allora ovviamente qui bisognerebbe entrare nell'idea dell'architettura del cervello però credo che la cosa più affascinante sia che questi due cervelli comunicano ovviamente attraverso il corpo calloso questi due emisferi altrimenti ci sono delle patologie ma il corpo calloso ha la funzione anche di inibire tante comunicazioni cioè di non omologare quello che fanno i due emisferi come dire perché noi stessi a livello evolutivo no perché queste cose hanno una funzione evolutiva no si si sono sviluppati è come se avessimo due strategie di avere a che fare col mondo perché avere due strategie autonome è meglio che averne una sola no allora qual è la cosa interessante che l'emisfero sinistro fondamentalmente si basa e nasce anche evolutivamente su bisogni molto pratici cioè manipolare sostanzialmente no avere un'attenzione locale finalizzata no alla sopravvivenza al cibo insomma tutte queste esigenze no l'emisfero destro eh contestualizza cioè mette le situazioni che e nunc in relazione con un ambito più generale quindi potremmo dire ripeto poi ci sono dei testi molto ampi che spiegano queste due differenze ma che l'emisfero sinistro opera per sua funzione in maniera riduzionista no isola frammenta localizza l'emisfero destro contestualizza no e quindi l'emisfero sinistro vede il mondo frammentato l'emisfero destro lo vede nella sua totalità e mette in relazione i singoli aspetti del mondo con altri aspetti del mondo diciamo ma questo lo dico io in maniera semplificatoria produce reti di significato no ecco poi me che fa vedere che c'è questa dualità su tantissimi aspetti della cognizione no e ripeto la cosa non patologica di questi due cervelli è che sono autonomi e interdipendenti nello stesso tempo però ed è qui che andiamo al punto esiste una simmetria perché una parte del cervello diciamo in genere quella sinile mistero sinistro non è semplifica senza essere consapevoli di semplificare quindi fa in maniera irriflessa quello che deve fare diciamo così l'emisfero destro oltre che contestualizzare no porsi senso delle possibilità mettere in relazione eccetera eccetera esercita anche una funzione di controllo sull'emisfero sinistro no quindi per quello se questa metafora no eh il padrone e il suo emissario no perché l'emisfero destro in un certo senso è il sovrano no il quale deve amministrare il tutto il sovrano delega ovviamente una parte di compiti pratici all'amministrazione quindi la metafora spiega questa simmetria qui però c'è la tesi più interessante per il nostro punto di vista cioè lui sostiene che la modernità è caratterizzata da una particolare patologia per cui queste funzioni equilibrate tra i due emisferi sono diventate squilibrate nel senso che l'emisfero sinistro ha preso troppo peso da cui fondamentalmente il riduzionismo pervasivo poi ci sono altri aspetti nel senso che l'emisfero sinistro ama vede le cose più come inanimate l'emisfero destro le vede come animate eccetera eccetera allora da questo punto di vista ma non è l'unico aspetto della modernità ripeto non dobbiamo cadere in una trappola riduzionista ma diciamo che la modernità ha enfatizzato una forma di funzionamento cerebrale squilibrata dove il rapporto è indiretto no nel senso che non è che chiaramente ognuno che fa teorie e si muove no nei contesti conoscitivi ha diretti come dire input sul suo funzionamento cerebrale ma la cosa interessante è che si è creata una modalità linguistica che attiva maggiormente le modalità per cui l'emisfero sinistro è più adatto cioè le modalità che astraggono che categorizzano che mettono insieme con una singola categoria cose che invece sono molto diverse e tant'è vero no che quello che te dici che la scienza in terza persona è basato su queste modalità linguistiche no quindi se noi poi aderiamo a certe modalità linguistiche ci dimentichiamo no di mettere in funzione altre aree del nostro cervello quindi la cosa interessante di questo tipo di ricerche che non sono le uniche no che fanno le neuroscienze in senso liberatorio perché poi c'è una grande scoperta della plasticità del cervello per cui ogni cervello ha una rete di neuroni che è individuale quindi non esiste l'uomo generico dal punto di vista neuronale sì ci sono dei vincoli molto forti no come ci sono i vincoli genetici ma l'individualità è fondata biologicamente neurologicamente ecco oggi io trovo un carattere liberatorio delle scienze e la riscoperta dell'aspetto fondamentale dell'individualità e della singolarità no che avviene poi a moltissimi livelli e non solo a livello delle scienze di base di quelle neurologiche di quelle biologiche no perché anche e questi sono i vincoli neurologici ma anche i vincoli genetici ci dicono appunto che sono vincoli che sì noi abbiamo i geni ma che poi l'esperienza individuale conta no allora qual è la cosa la sfida che trovo affascinante in questo discorso che un problema che è nato a livello astratto filosofico cioè la ricerca dei fondamenti no come possiamo essere certi e appunto come avere certezze diciamo che non siano assolute ma che siano comunque salde ha trovato una conferma nelle modalità di costruzione del nostro corpo cioè noi siamo all'altezza di un mondo che ci appare sempre più complesso perché noi stessi siamo complessi no a tutti i livelli a livello psicologico a livello sociale ma anche andando al know-how più neurologico e biologico no e quindi esiste un circolo virtuoso tra la scoperta della complessità di noi stessi e la scoperta della complessità del mondo molto interessante molto interessante quindi potremmo dire che la conquista i vantaggi evidenti conoscitivi pragmatici tecnici che negli ultimi 500 anni si sono giustamente affermati a partire dallo sviluppo della della scienza moderna se ho capito hanno creato una cultura addirittura un linguaggio come spesso succede e quindi anche tutto un modello educativo che ha inflazionato diciamo così il modo di funzionare dell'emisfero sinistro e questa è un po' l'ipotesi secondo te più accreditata no il modo di funzionare dell'emisfero sinistro è sempre stato questo qui ha enfatizzato il ruolo dell'emisfero sinistro nel funzionamento generale del cervello e quindi ha creato uno squilibrio diciamolo in questi termini l'emisfero sinistro ha un ruolo fondamentale nel linguaggio e quindi nell'astrazione e nella categorizzazione allora l'astrazione e la categorizzazione sono cose bellissime senza le quali noi non potremmo vivere naturalmente perché noi quando vediamo dei singoli fenomeni dei singoli oggetti vediamo anche gli aspetti comuni a questi a tanti oggetti il guaio succede quando ci dimentichiamo delle particolarità dei singoli fenomeni e dei singoli eventi perché questo non lo dico io lo dice Lee Smalling che è uno dei fisici più importanti del giorno d'oggi dice a rigor di logica anche come dice la fisica non esistono due eventi uguali all'altro il mondo è racliteo non ci merdiamo più volte nelle stesse acque le acque il mondo è flusso d'altra parte non esistono nemmeno oggetti che hanno un comportamento uguale perché ogni oggetto in fin dei conti è legato gravitazionalmente a tutto il resto del mondo e quindi in qualche modo in quanto oggetto diverso dico tra virgolette oggetto anche gli elettroni al limite fa parte di una rete gravitazionale ogni volta diverso però giustamente noi non ci sperdiamo in questa cosa cioè categorizziamo certi insieme di eventi e li chiamiamo oggetti che hanno soprattutto in fisica delle caratteristiche simili e quindi possiamo fare le nostre leggi le nostre astrazioni eccetera eccetera però appunto sono operazioni sul mondo non è il mondo in questo modo allora da questo punto di vista è un po' interessante vedere come sia diverso l'atteggiamento della storia cioè perché si studia la storia non certo perché la storia si ripeta perché è banale dirlo ma non esiste mai una condizione storica uguale a quella del passato se noi studiamo Giulio Cesaro Napoleone o Iuni non è che il mondo d'oggi no a Giulio Cesaro e Napoleone e Iuni tuttavia noi troviamo in tanti episodi del passato alcune similitudini che ci aiutano a capire il presente e questo discorso di tipo storico vale ovviamente non solo per la macro storia ma anche rispetto al concetto di esperienza individuale perché l'esperienza ed è anche la memoria sono così importante non perché applichiamo banalmente le modalità di comportamento che abbiamo avuto in una situazione la portiamo nella situazione attuale perché la situazione è diversa ma perché il nostro cervello funziona con un gioco di identità e differenze cioè noi comparando due situazioni diverse vediamo gli aspetti che le unificano e gli aspetti che li distinguono è chiaro che se noi vediamo solo uno di ciò che unifica e ciò che distingue non abbiamo apprendimento e non abbiamo esperienza quindi queste cose che poi voglio dire trovano diciamo conferme scientifiche sono anche elementi fondamentali diciamo di quella che potremmo definire la cultura umanistica però la cosa interessante è che oggi i fisici e voglio dire chi si occupa di scienze hard sono molto aperti a questo punto di vista quindi è chiaro che noi facciamo sempre un gioco multiplo di identità e di differenza abbiamo una visione binoculare e questo diciamo è la salute mentale della conoscenza poi ci possono essere alcune patologie che è interessante perché chi si occupa di cervello le definisce proprio come patologie diciamo del nostro hardware ma sono anche patologie culturali esempio le scienze umane le scienze umane come hanno avuto per tantissimo tempo hanno un senso di come dire sottomissione a una visione sbagliata delle scienze della natura e quindi nell'umano vedono solo ciò che si può generalizzare perdendo la singolarità di ogni individuo è chiaro che qui abbiamo una patologia culturale fortunatamente oggi appunto citavo Smolin perché uno tra i tanti sono i primi grandi fisici gli scienziati della natura che hanno avuto a che fare con gli shock cognitivi del ventesimo secolo che ci dicono guardate che dobbiamo capire quanto diciamo nella conoscenza è una costruzione umana che non è che interpreta in una maniera diretta certi tratti del mondo Allora alla luce di tutto quello che è molto denso stimolante hai detto in questi quattro questi primi quattro dialoghi video mi viene da chiedermi insieme a te questa cosa mi scuseranno se ci sono dei filosofi che guardano per la mia semplificazione questo passaggio negli ultimi 500 anni nella cultura occidentale da una visione metafisica sto semplificando metafisico è un contenitore molto ampio c'è dentro veramente tante cose ha una visione più pragmatico empirica no che non è detto che una escluda l'altra ma a un certo punto c'è stato se ho capito bene un'inflazione di questa parte sulla luce alla luce della potenza della conoscenza e della tecnica scientifica no con questa ipertrofia della funzione dell'emisfero sinistro di astrazione categorizzazione riduzione che hanno un senso nel senso dell'utilità pratica no ma è come se noi culturalmente collettivamente avessimo rinunciato a metterci in relazione col mistero delusi dall'impianto metafisico religioso filosofico eccetera molti diversi fanno questa ipotesi e dicono è stata messa in crisi un certo modo di concepire i fondamenti del senso metafisici il modo in cui ci mettiamo possiamo dire così in relazione col mistero e abbiamo confuso questa visione pragmatica empirica che ha che ha nella quotidianità un impatto enorme ma che non non fonda la ricerca di senso no comunque la alimenta la supporta ma non la risolve no abbiamo in qualche modo come dire buttato via il bambino con l'acqua sporca no allora da un lato questo porta nell'era contemporanea riflussi integralisti di varia natura politica religiosa culturale forse possiamo adesso incominciare a muovere i primi passi se sei d'accordo non so se riusciamo a farlo in questo video nei prossimi nel cercare di capire di fare un po' un'analisi del che cos'è che abbiamo buttato via perché a un certo punto si è imposto così questo modello che rinunciava ai fondamenti se non quelli utilitaristici pratici pragmatici tecnici non so se la mia sintesi è chiarissimo allora io devo dire un appunto che la storia della scienza che è un contributo fondamentale del ventesimo secolo ha detto una cosa chiara non si può fare a meno della metafisica qualunque scienziato e qualunque tradizione ha dei presupposti metafisici con cui vedere il mondo allora riassumendo quello che abbiamo detto anche già nei video però in buona parte la metafisica della scienza non ha rotto con la metafisica teologica ma diciamo fino all'ottocento in qualche modo se è stata interna questa metafisica perché l'abbiamo detto Dio veniva attivato fuori come il garante della conoscenza quindi c'è una inserzione della metafisica moderna nella metafisica teologica con distinzioni enormi a livello dei singoli autobili poi nell'ottocento questo è il tema interessante la morte di Dio che non è uno slogan ma è si rompe quando la scienza diventa orgogliosa e matura si rompe con questa tradizione teologica e però cosa rimane per dirlo in termini piuttosto radicali come dice per esempio anche Jung rimane solo la divinizzazione dell'umano cioè l'autobiografia di Jung che è fondamentale perché è fatta gli ultimi anni della sua vita quindi c'è tutta una sintesi della sua esperienza e si conclude proprio su quello dice la divinizzazione dell'umano voglio dire è l'elemento regressivo che porta a tante catastrofi del ventesimo secolo probabilmente il legame non è così diretto eccetera eccetera che cosa vuol dire divinizzazione dell'umano l'ho detto prima che la conoscenza in cerca di fondamenti si fonda sull'autosufficienza dell'umano e allora elimina il mistero eccetera eccetera ora ripeto io lo dico è banale che se noi riflettiamo su come la nostra conoscenza è fondata biologicamente e anche fisicamente sulle modalità di abitazione del pianeta e del sistema solare noi non possiamo pensarla così cioè voglio dire tutta la nostra conoscenza è biologicamente e neurologicamente e anche fisicamente e fisicamente locale la conoscenza di un prodotto dell'evoluzione locale in un pianeta locale in un sistema solare locale in una galassia locale per quello io credo che la riflessione dell'astrobiologia sia così importante perché ci aiuta a decentrarsi detto questo però la cosa affascinante è che noi riusciamo a cogliere degli aspetti del mondo e riusciamo nella nostra storia ad allargare la nostra visione del mondo quindi la certezza diciamo è storica è data dal nostro percorso allora lì io credo che Jung lo fa in maniera molto semplice ma meglio così da vecchio saggio qual è la critica a razionalismo non che sia sbagliato il razionalismo in sé cioè delle pratiche ma che il razionalismo è solo la punta di un iceberg di una realtà umana e cosmologica molto più ampia e che quindi esiste un orizzonte di mistero che noi non possiamo spostare che noi possiamo spostare ma non possiamo annullare e la cosa interessante poi di Jung è che lui vede il mistero anche in ogni singolo individuo in noi stessi mentre lo possiamo vedere anche a livello invece di storia delle idee cioè il mistero è l'orizzonte rispetto al quale ci interroghiamo e rispetto al quale ogni tanto riusciamo a fare delle decentrazioni chiaramente senza mistero torniamo in quella visione della scienza basata sul passato come dire la conoscenza umana arriva alla fine che quasi è una visione apocalittica è una visione come si dice diciamo millennialistica come dire finalmente la nostra storia del mondo è arrivata quasi al punto cruciale e quindi noi dei legami tra le catastrofe poi ecologiche che avvengono e anche quelle politiche questa attitudine non è che la scienza dell'ottocento tra virgolette divinizzando e lo dico tra virgolette il soggetto umano poi generava ha generato direttamente il totalitarismo del ventesimo secolo però chiaramente ci sono dei legami da questo punto di vista va bene ci fermiamo qua adesso nel prossimo incontro entraremo un pochino più nel dettaglio tanta carne al fuoco ci vediamo a questo punto al prossimo viaggiamo viaggiamo